Ben trovati a tutti e a tutte, bentornati ad una puntata speciale di Crescimi2, il programma di teleambiente dedicato all'infanzia e all'adolescenza. In questa puntata speciale di Crescimi2 parliamo di tutela dei minorenni, delle devianze che colpiscono i minori e attraverso la voce degli esperti e degli addetti ai lavori faremo anche un quadro di quelle che sono le principali problematiche che affliggono i giovani, i minori al giorno d'oggi e cercheremo anche di capire quali possono essere le possibili soluzioni a queste problematiche. Partiamo da un convegno, il titolo del convegno è la tutela dei minorenni nell'epoca dell'intelligenza artificiale, un convegno organizzato dalla Camera Minorile Dorica con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati che si è tenuto nella sala consigliare del Comune di Ancona. Questo convegno nasce per riflettere chiaramente sul tema dell'intelligenza artificiale che è sempre più presente nella nostra vita quotidiana e dunque c'è la necessità di promuovere e di garantire una tutela efficace dei minori considerando appunto le nuove sfide che emergono da questa presenza dell'intelligenza artificiale. Nel corso del convegno è intervenuto il dottor Sergio Cutrona che è il presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche che ha parlato appunto del ruolo che ricopre questa istituzione del Tribunale dei minorenni e di come questa istituzione possa essere paragonata al reparto di un ospedale. Allora ascoltiamo. Io dico sempre che il Tribunale per i minorenni somiglia un po' a un ospedale anzi direi al reparto rianimazione, al reparto chirurgia ai reparti quelli dove vanno gli ammalati più gravi perché noi ci occupiamo delle famiglie e dei minori maggiormente problematici della regione e ce ne arrivano circa 1.200-1.300 all'anno. Abbiamo una pendenza adesso, non vi so dire, 3-4.000 procedimenti pendenti, civili. Parlo solo dei procedimenti civili. Poi ci sono in più tutti i penali, gli amministrativi, eccetera. Quindi questi sono la punta dell'iceberg della sofferenza della regione. Ora, però, come ogni ospedale, naturalmente non avrebbe senso se ci limitassimo a ricevere gli ammalati che arrivano senza fare riferimento poi alle strutture sul territorio e dire ai medici di base, facciamo questo esempio, perché non ci date una mano anche voi e tutti insieme? Non vediamo come prevenire tutta questa sofferenza. Perché le famiglie che arrivano da noi, i giovani, i bambini, i ragazzi di ogni età che arrivano da noi, arrivano con una grandissima sofferenza personale, più o meno grande, a seconda delle situazioni vissute. Allora, tutta questa sofferenza che io sono abituato, purtroppo, ai me da tanti anni, decenni, a vedere, da ultimo mi ha convinto della necessità di creare un rapporto di sinergia, di collaborazione con tutte le istituzioni che hanno in qualche modo un'influenza sulle persone per migliorare la situazione. Per fare, da un lato, prevenzione, quindi avere meno casi gravi e risolverli prima che diventino gravi, dall'altro per intervenire meglio per la risoluzione di quei casi che sono già diventati gravi. Nel corso della mia carriera ho visto tanti bambini che ancora a tre, quattro anni non erano in grado di camminare perché non erano stati stimolati, o non parlavano, o camminavano sulle punte dei piedi, cose, o bambini che a sette, otto anni ancora si nutrivano dal biberon, cose che sono assolutamente assurde e ho visto preadolescenti, adolescenti, soffrire e in due modi diversi, o chiudendosi nel proprio dolore e cercando l'evasione oppure divenendo reattivi, aggressivi. Ma voi pensate che questi poveri adolescenti psicopatologici poi rimarranno a soffrire così tranquillamente a casa loro, crescendo? No, ce li troveremo per le strade, ce li troveremo a soffrire e a far soffrire perché saranno quelli poi che andranno picchiando, menando, uccidendo, sfregiando e finiranno sulle prime pagine dei giornali. Quindi, con questo cosa voglio dire? Che la sofferenza dei minori non intercettati poi si risolve nella sofferenza della società. I nostri ragazzini che soffrono adesso e sono in condizioni di disagio e poi magari di devianza normalmente diventeranno adulti che rimarranno in questa condizione e faranno figli che si troveranno nella stessa condizione dei loro genitori. Questa è la catena del disagio. Nel corso del suo intervento, durante il convegno, Cutrona ha poi fatto un quadro di quelli che sono i disagi che sono maggiormente riscontrati nei minori oggi, descrivendo a volte delle situazioni davvero preoccupanti e complesse. Allora, vediamo il secondo contributo. Perché oggi la situazione è particolarmente difficile e più difficile del solito? Perché non abbiamo solo il problema della catena del disagio da risolvere, ma abbiamo un problema di degrado socioculturale, lo definirei, che fa sì che il disagio dei ragazzi sia più frequente e sia più profondo. Ci sono delle cause sociali a questo incremento del disagio che poi si manifesta in tanti aspetti anche dal punto di vista della tipologia dei reati che vengono commessi. Ma badate bene che i reati non esauriscono il disagio. I reati sono espressione, in molti casi, di devianza. Quindi sono un pochino la manifestazione esterna della sofferenza di questi ragazzi. Ma dietro questi reati c'è molto di più. Per ogni reato che viene commesso ci sono almeno dieci minori che soffrono. Quindi, in ogni caso, però, i reati ci danno un po' un'indicazione di quello che sta accadendo. Ci sono sostanzialmente due tipologie di reati che vengono commessi e che corrispondono alle tipologie di disagio dei ragazzi, anzi, di risposta al disagio. C'è un tipo di risposta aggressiva che viene perpetrata attraverso l'aggressività contro gli altri e soprattutto contro l'apparenza degli altri in modo tale da apparire migliori e più grandi. E c'è un altro tipo di devianza che è quella relativa alle sostanze stupefacenti che deriva dal desiderio del minore di isolarsi dal mondo attraverso l'evasione che oggigiorno può essere reale attraverso gli stupefacenti o virtuale mi immergo nel mondo virtuale. Cosa ci fa capire tutto questo? Che c'è stato un cambio di mentalità che vado su Instagram e cerco di capire, ragazzi, le dobbiamo cercare lì dove sono. È inutile che io cerchi di capirli così dai giornali. Devo andare a capire la loro mentalità. E lì su Instagram ho capito perché si è creata questa cultura dell'apparenza. Coloro che hanno tantissimi followers e ci sono ragazzi che hanno 100-200 mila o un milione di followers sono quelli che hanno dei video che sono trasgressivi. Quindi la trasgressione veicolata attraverso gli strumenti informatici permette grande visibilità e ci permette di sentirci grandi. Mi metto nell'ottica dei ragazzi, ovviamente. Quindi il minore, il giovane che non solo si comporta in maniera trasgressiva ma poi manifesta questa trasgressività attraverso video o altre situazioni o vuole apparire bello meraviglioso performante abilissimo in certe attività attraverso questo apparire si sente gratificato. Si è creata una cultura in cui apparire è molto più importante che essere. Non è importante essere felici è importante apparire felici affinché gli altri ci possano ammirare. E perché questo degrado? Non è solo colpa dei device non è solo colpa della facilità di accesso ai social network che non incontra alcun controllo da parte dei genitori ma c'è un fenomeno sociale forse poco esplorato che deriva dall'allungamento della vita media dell'essere umano. I ragazzi non hanno bisogno di noi pensiamo erroneamente perché tanto hanno i loro device e sono anche piuttosto antipatici e non è facile relazionarci con loro perché non vogliono il dialogo ci accusano di essere antichi se diciamo ma perché non lasci un attimo il telefono e parli con papà con mamma dicono ma lasciami in pace sto ciottando quindi sono scostanti ma questo è tipico degli adolescenti solo che un buon genitore che fa non si arrende insiste e crea un rapporto educativo e dunque alla luce di queste problematiche che ha spiegato ha raccontato Sergio Cutrona come devono agire i genitori e nello specifico quale deve essere il loro ruolo nell'educare i figli ascoltiamo ancora Cutrona cioè un buon genitore semina semina valori semina cultura purtroppo i cattivi genitori non fanno questo e oggigiorno sono ancora più distratti da questa necessità di realizzarsi fuori della famiglia quindi c'è un abbandono educativo dei soprattutto degli adolescenti i piccoli i bambini sono quelli più a rischio e più delicati perché effettivamente io concordo pienamente con l'ispettore Scocchera perché tante qualità si sviluppano nei primi anni di vita del bambino ma hanno un vantaggio sono carini ed essendo carini i genitori li amano e sono disposti anche a fare la guerra per tenerseli con l'altro genitore o con le istituzioni ma quando poi diventano preadolescenti adolescenti allora arriviamo al punto che molto spesso ho assistito a madri che cacciano di casa la figlia perché c'è una ribellione allora vedete che in questa situazione occorre visto che la situazione è diventata grave e noi ne vediamo le manifestazioni a volte eclatanti riportate dalle televisioni abbiamo bisogno di fare fronte comune per intervenire tutti quanti nella misura possibile coordinandoci per fare un'opera di prevenzione per tutte le fasce di età e veniamo a vedere che cosa noi possiamo fare se tutti mettessimo i minori al centro della nostra attenzione potremmo benissimo fare prevenzione che potrebbe passare attraverso le scuole attraverso i servizi sociali attraverso naturalmente il sostegno della regione attraverso la cultura perché questo è un problema non solo diciamo di intervento sociale ma culturale dobbiamo diffondere non solo tra i minori ma tra gli adulti la cultura della protezione dei minori dobbiamo far capire che se ci troviamo la piantina storta è malaticcia non è colpa del seme della piantina è colpa del fatto che non ne abbiamo avuto cura durante la sua crescita quanti sono gli adulti che hanno consapevolezza di questo e che cosa noi facciamo per spiegarlo al convegno ad Ancona erano presenti tante personalità a cominciare dalle istituzioni allora il direttore responsabile di teleambiente Stefano Zago ha intervistato Filippo Saltamarini che è il vicepresidente della regione Marche ed è assessore alle politiche sociali e alla sanità il vicepresidente Saltamarini nel suo intervento ha parlato dell'importanza che ha la collaborazione integrata tra le istituzioni e la società vediamo in questo momento ci troviamo di fronte a dei problemi che non esistevano fino a qualche anno fa fino a qualche anno fa l'integrazione lo sviluppo più armonioso dei nostri minori si svolgeva all'interno della famiglia all'interno della scuola all'interno delle comunità parrocchiali oggi tutto questo è saltato anche per l'intervento dei social molti ragazzi oggi formano la loro personalità addirittura con il loro cellulare o addirittura attraverso dei social che sono e proiettano immagini violenti o immagini di conflitto sociale o personale noi dobbiamo ricondurre tutte le istituzioni pubbliche a garantire quello sviluppo armonioso della personalità facendo emergere i migliori talenti e tutto questo può essere fatto attraverso una collaborazione integrata il fatto che la più alta magistratura dei minorenni quindi il tribunale dei minorenni abbia voluto coordinare questo intervento sta a significare la grande trasformazione i giudici non si erigono più solo ed esclusivamente a giudici della devianza ma si preoccupano anche dell'integrazione di questi ragazzi d'altra parte la complessità come dicevo di fenomeni straordinariamente importanti pensiamo per esempio ai disturbi alimentari sono aumentati enormemente i problemi di anorissia di bulimia i problemi di tossicodipendenza dopo il covid sono aumentati enormemente i problemi psicologici di tanti ragazzi quindi di fronte a queste sfide è chiaro che se noi non facciamo fattore comune mettendoci ognuno qualcosa di più di quello che abbiamo generalmente la pubblica amministrazione oggi si difende attraverso la competenza uno si rivolge alla regione non è di mia competenza magari ti senti rispondere si rivolge al comune non è di mia competenza probabilmente la competenza della società e quindi in primo luogo delle istituzioni e quindi deve essere rimeritato il presidente del tribunale minorenni che mette insieme tutte queste esigenze per far sì che anche se la competenza non è di una pubblica amministrazione tutti insieme comunque il problema dobbiamo affrontarlo perché certo questi problemi sono di competenza della società e di chi in questo momento ha la responsabilità del governo della società che lo voglio ricordare non sono solo le istituzioni politiche ma sono se mi permettete anche ogni padre di famiglia quindi ogni padre di famiglia ogni capo di un'associazione dall'Avis alla Croce Rossa i capi delle comunità parrocchiali i capi anche delle altre comunità che non esclusivamente della Chiesa Cattolica oggi abbiamo di fronte una società multietnica quindi tutti questi problemi noi possiamo risolverli sapendo che in altri paesi è stato fatto pensiamo agli Stati Uniti pensiamo alla Germania che ha uno zoccolo duro per esempio di immigrati musulmani ecco tutti questi problemi sono problemi complessissimi che noi non avevamo mai affrontato come paese come nazione e quindi è bella questa iniziativa e mi compiaccio con il Presidente del Tribunale per aver avuto il coraggio da magistrato altissimo magistrato della Repubblica di mettere insieme queste istituzioni tra le istituzioni presente anche il Sindaco di Ancona Daniele Silvetti che invece ha raccontato quali sono le iniziative a sostegno delle famiglie che il Comune di Ancona ha messo in campo ringrazio il Tribunale per i minorani delle Marche per aver fortemente voluto questo momento di confronto che sarà sicuramente il primo di una lunga serie che mette in sinergia le esperienze degli enti locali e quelle che potrebbero essere le riflessioni è un confronto che serve a tutte le amministrazioni per poter chiaramente produrre dei risultati o comunque delle strategie per aiutare ovviamente le famiglie a crescere bene i propri minori ma a crescere bene loro stessi e le buone pratiche o quelle che sono le progettazioni devono presto sostituire lo stato emergenziale in cui gli enti locali si sono costretti a lavorare per quelli che sono i tanti processi che si stanno sviluppando non solo dal punto di vista economico e che in qualche modo vedono una famiglia una componente molto fragile abbiamo delle coprogettazioni che attraverso e con il dialogo con le famiglie ci consentono di vedere in modo e in tempo reale le evoluzioni soprattutto di quelli che sono i rapporti genitore minore rapporto con le istituzioni rapporto con il mondo scolastico mondo del lavoro ecco con questi progetti riusciamo ad avere in tempo reale o quasi in tempo reale un riscontro che ci permette poi di portare i giusti accorgimenti stada facendo Vanessa De Vita ha intervistato poi Marco Fioravanti che è presidente del Lanci Marche sindaco di Ascoli Piceno che ai microfoni di teleambiente ha parlato di digitale in particolare di aspetti positivi e aspetti negativi la presenza mia la presenza del Lanci Marche oggi qui vuole dimostrare il grande impegno che vuole portare avanti Lanci Marche per mettere al sistema le buone pratiche di ogni singolo comune delle Marche partendo ovviamente dal capoluogo Ancona per cercare di favorire i nuovi nati per favorire politiche a sostegno della famiglia e anche per mettere in condizioni i giovani per essere protagonisti del nostro e il loro futuro quindi per fare questo dobbiamo creare una bella rete tra pubblico e privato tutti comuni insieme per cercare di dare un segnale di speranza evitare che nuovi giovani vadano via dalle Marche e anche per creare condizioni per far tornare i giovani marchigiani in giro per l'Italia e per il mondo purtroppo i social possono essere una medicina o un veleno dipende da come lo utilizzi noi quando a 18 anni prendiamo l'auto prima di prendere l'auto facciamo un esame e prendiamo la patente e io metterei la patente per utilizzare i social perché se tu non li sai utilizzare i social diventano dipendenza veleno malattia e può essere anche forma di violenza se invece tu li sai governare guidare i social possono aiutare alla crescita educativa tua e anche del tuo compagno a fianco quindi è un sistema educativo che va ripensato cercando di tirar fuori il meglio da ogni ragazzo e cercare anche di guidare i processi nuovi come l'intergenza artificiale per creare consapevolezza di quello strumento uno dei temi più attuali e più cruciali quando parliamo di minori in particolare di violenza perpetrata dai minori è il cosiddetto fenomeno delle baby gang che sono sempre più presenti nella cronaca di cui leggiamo tutti i giorni su questo tema si è concentrato l'intervento di Cristina Tedeschini che è procuratore della Repubblica per i minorenni delle Marche allora ascoltiamola sempre intervistata da Vanessa De Vita baby gang è un termine un po' giornalistico nel senso che in realtà non c'è nulla di strutturato non c'è nulla di organizzato non c'è manco nulla di pensato nelle azioni che vengono poi ogni tanto riportate dalle cronache locali come ha giustamente detto lei è un po' come se un momento di violenza collettivo fosse l'alfa e l'omega del senso di queste cose certamente sono fenomeni aggregativi che inquietano che in realtà si possono disperdere anche abbastanza semplicemente proprio perché non strutturati affatto e che però sono un segnale molto forte di fino a che punto stiamo fallendo l'integrazione di questo nostro paese perché è un dato di fatto queste aggregazioni di ragazzini violenti sono a larga partecipazione estracomunitaria e quindi sono un segnale non solo della violenza che è in circolo nella società ma anche di fino a che punto noi non stiamo integrando nulla perché sono tutti nati qui seconda generazione terza generazione stiamo fallendo uno dei temi più cruciali più vitali per il nostro tessuto sociale siamo giunti alla fine di questa puntata speciale di Crescimi Tu il programma di teleambiente dedicato all'infanzia e all'adolescenza prima di salutarvi vi voglio ricordare che potete rivedere tutte le puntate di Crescimi Tu delle stagioni passate sul canale youtube di teleambiente che trovate ulteriori approfondimenti sui canali social di teleambiente sul nostro sito web www.teleambiente.it allora io ringrazio il direttore responsabile di teleambiente Stefano Zago ringrazio Vanessa De Vita per le interviste Daniele Puddu in regia ringrazio tutti voi per averci seguito e un buon proseguimento e un buon proseguimento che ci abbia